Lei ci ha inviato una richiesta alla nostra redazione, che cosa gli è capitato, che cosa gli è successo signora? Allora, mi è successo questo. Io in data 9 marzo mi sono presentata al protosoccorso di Fano con il mio compagno con la febbre a 40, dove per esempio dovevo trovare il triage esterno, nel triage esterno non c'era nulla. Allora è arrivata un'ambulanza, ho parlato con la dottoressa e hanno preso dentro il mio compagno, l'hanno accompagnato dentro e da lì io non l'ho più rivisto, perché è risultato positivo con il coronavirus. Nei giorni successivi io ho avuto febbre, mal di gola, eccetera, eccetera. Ho contattato più volte il numero verde, mi hanno detto che mi avrebbero mandato dopo due giorni una persona a fare il tampone, sia a me che a mio figlio. Non si è visto nessuno. Finché a un certo punto sono stata contattata dall'ufficio prevenzione di Urbino. Mi ha chiesto tutti i dati e mi ha detto che avrebbe mandato a casa le persone a farmi il tampone. Visto? Nessuno. Ha provato a contattare anche il suo medico di famiglia, di base? Sì, ho provato anche a contattare il mio medico di base, tutto. Allora ho ricontattato Urbino e Urbino ha risollecitato Fano. Ma il tempo è passato, io parlo dal 9 marzo, siamo 16 di aprile oggi. Quindi lei è rimasta in casa in quarantena insieme ai suoi figli? Io sono ancora in quarantena. Il 6 di aprile ho contattato perché finalmente Fano mi risponde con un'email dicendomi che il mio medico deve fare domanda all'ufficio guariti. E anche se non ho fatto il primo tampone, però sono stata a stretto contatto con persona positiva, devo fare i due tamponi negativi. Io ho contattato il mio medico il 6, il 6 ha fatto domanda e a tutt'oggi ancora non sono stata chiamata. Quindi quello che vuole chiedere è di più controllo? Il mio medico mi ha confermato più volte che chi è ospedalizzato perché l'ha avuto grave è controllato, ma chi è a casa è stato lasciato il territorio, è stato lasciato un po' allo sbando.